e ciao a tutti e benvenuti del canale e oggi siamo su per la prima volta sul mio canale e per la prima volta anche per me Rocket League allora io questo gioco non lo conosco cioè infatti l'ho visto da uno youtuber che è anche molto bravo e questa è la prima volta che ci gioco ma comunque ho visto che era un bel gioco dai video di quello youtuber quindi ho pensato di portarlo vecchio raga facciamo che ci vediamo dopo perché ci sta mettendo 40 anni per caricarsi sto gioco ok eccoci raga per la prima volta che ho messo 6 secondi vai 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 gioco è una signora dove cosa sta succedendo vai stiamo a gioco a 3 a 1 ok buco ehi come si gioca non so giocare non so giocare non so giocare non so giocare eh posso andare sulle quali questo video lo chiamerò la macchina spiderman ah ho premuto x non è che ho piazzato una bomba premendo x raga non riesco ad restare 5 non so neanche perchè ma che succede a questo gioco tecnicamente si cominciava da 0 a 0 ok ho capito che con il cerchio mamma mia cosa ho fatto e con il cerchio si mette il turbo poi con il tasto per sparare su ford con l2 si 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 cammina con r2 si frena con x lancio quella bomba eh basta forse sono esploso raga ma che gioco è questo come il ctacolo con la palla spiderman 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 super super spiderman ah 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 Allora praticamente noi siamo delle macchine Ho segnato Guardate che gol che ho fatto Senza manco saperlo Yeee Ma sono proprio un pro player Non so neanche saperlo ho fatto nulla Ma Senta secondi Ma quanto vi farò male Nella prossima partita Quella palla ha volato più di me Come ti permetti palla No brutto pezzotta Ma la liscio sempre io la palla Oh stai quasi voglio che lo fai in alto bollo Abbiamo vinto Yeee Sette a tre Ma in questi quattro secondi fanno Arrivano a sette gol E poi arrivano anche a otto All'ultima seconda Guardia guardia Vinto Oh mi aspetta sulle descrivi Ok Oh che bello Ok Allora Facciamo Pronto E andiamo Oh questo è veramente un bel gioco Non riesco a capire perché Abbiamo iniziato da quattro a uno Cioè vorrei capirlo questo Oh Ok Molto inizio da zero a zero E' sempre arancione Anche se vorrei essere il blu Perché è il mio colore preferito Ma Passate qui la palla pronti Niente Niente Guarda Pam Mamma mia l'ho mandata verso il muro Sono il più bravo Come si gioca Come si gioca Vabbè Ma l'ho lisciata Come l'ho lisciata sta palla Siamo Dice Si Varia questo sta manco di turbo da tipo 3 mamma mia che botta che ci siamo dato questa partita alla fine è 0-0 io chiudo il canale ok perfetto però sono triste perché ci hanno fatto un gol e che gol c'è una cosa bella è che ogni volta che fanno un gol è proprio il joystick quindi a me viene mezzo l'infarto oh madonna che gioco brutto non è vero un bel gioco ahi io non si chiamano più rapido il giocatore ma mamma mia che no perché non mi fanno dire no ma che come ci vuole lo fatto manco penna vai che stavo facendo? non riusciamo dentro l'arit guardate dove sto? dovrei essere qua non riusciamo dentro l'arit degli altri e tutti invece di pensare che stavo vicini no dai ma che palo ma dai manco il crossbar challenge facciamo dei pali e delle traverse così ma che gioco bene e spingete alla via che maneschi boh io ho giunto il canale sto scherzando stupide baby l'ho toccato sono il più bravo di tutti si ma di quanto mi hanno spalzato ma di quanto mi hanno spalzato ma di quanto mi hanno spalzato si si vola si 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 ahia brutto ma guarda cos'è che fa ma vuole usare la violenza oh come l'ho tolta madonna madonna raga ho fatto esplodere uno ma sono pro oh manca un minuto e siamo nel den nooo ma ha ancora la crossbar challenge giuste traverse ma non 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 ma non Ora questa la prendiamo. Ok ragazzi adesso facciamo l'ultimo partito. La piccola piccola e poi ci andiamo a vedere le cose nuove. Ma quanto sono figo! La piccola piccola. Raga non mi posso comprare niente. Cos'è il rocket pass? Ma ho sbloccato un sacco di roba. Questo è bello. Questo che cos'è? Il garage ecco. Personalizzato. Ma che bello! Ma che bello! Cioè raga comunque è troppo bello. Allora questo è molto carino. Però a me è quello che mi piace il più è questo. Ah ma non lo possiamo prendere. Questo mi costa malissimo dai. Io scelgo il nome. Ok raga finalmente ho deciso. Xt. Non si vede niente. Sì si vede. Qua. Eh. Vabbè non fa niente. Comunque non vedete Xt. Non sono sicuro. Ok raga facciamo l'ultima partita al volo. E poi io chiudo. Ok. Eccoci qua. Siamo ritornati. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Oh eh. Già l'abbiamo in salto. Beh 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 beh. Finalmente sono nel blu. No zio ti prego. Ma che palle. Scusate. Mamma mia che esplosione quella palla. Ah ah ah. Boh. No non dirmi che mi importa. Grande. Scusate. Oh madonna santa. No questa persona che sta morrendo. Per i miei genitori. Che stanno all'altra stanza. Scusate. Ok. E la sua nella prima e prima che si sente morta. In realtà stanno parlando. Mamma mia. Che schianto mortale. Ma che palle. Che. Dai. Di quanto l'ho lisciata. Cioè raga. Se io sto qua ha fatto l'autogol. Ma siete veramente seri. Vabbè. Ah no non ho fatto l'autogol. Vabbè ma allora è brutto questo. Mamma mia. Vabbè raga. Io direi. Che possiamo chiudere. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale. E attivate la campanellina. Ciao ciao.